buongiorno amici buongiorno amiche come vedete abbiamo un nuovo gadget questo dal nome caraibico diciamo è questo qua che conoscete che avete già visto la recensione sul mio canale è quello che attualmente uso nella mia auto e funziona benissimo perché li ho messi vicino perché in realtà potrebbero essere più simili di quanto sembra come vedete questo qua ha un design molto molto simpatico tondeggiante direi che assomiglia un po chrome cast di google vedete anche i font della scritta richiamano richiamano google non ha non ha nessuna presa credo che questo qui serva per fare il reset sotto c'è un gommino per non farlo scivolare è carino a vedersi è leggero perché dicevo che sono sono simili perché entrambi collegano il vostro smartphone android in modalità wireless vedete anche l'auto riconosce le copertine spotify potete fare le chiamate tutto come se foste collegati all'auto via cavo invece siamo collegati via wireless con questo qua dicevo sono più simili di quello che sembra entrambi si collegano velocemente entrambi non utilizzano il sistema carplay per collegarlo ma appunto sono un sistema android puro quindi vengono riconosciuti dall'auto come dell'unità android il vostro cellulare smartphone sarà collegato allo stereo come fosse un android entrambi lo fanno velocemente e la sorpresa è che l'ip per fare gli aggiornamenti firmware è lo stesso sia per lui che per lui quindi secondo me al 90 per cento dentro l'hardware è lo stesso anche perché ho visto che sono parimenti affidabili l'ip per ragionamenti è uguale io sono giorni che lo provo non ho avuto nessun problema la connessione è veloce funziona tutto l'assistente google quindi sinceramente potrei tenere questo come potrei tenere questo diciamo che più una scelta estetica o meglio io dire a questo punto una scelta di prezzo perché questo qua lo potrete prendere su alibaba e due pezzi costano 95 euro spedizione veloce compresa quindi è una cosa abbastanza allettante anche se poi ho visto che è disponibile su aliexpress e anche forse su amazon io però a me me l'hanno spedito con alibaba e alibaba come sapete è dove si trovano questi oggetti al minor prezzo quindi 95 euro due pezzi se pensate che questo sfiora gli 80 euro su amazon italia se ne prendete due di questi uno lo rivendete uno lo tenete per un amico la convenienza è grande non ho molto altro da dire perché se guardate la recensione di questo praticamente direi le stesse cose che dico per per questo posso fare un piccolo recap per gli amici magari che guardano per la prima prima volta i miei video questi gadget si dividono in due tipi quelli di questo tipo che chiameremo adoe a android to android dove praticamente una volta collegato questo al sistema multimediale è collegato il vostro telefono via bluetooth lui riconoscerà come se voi aveste collegato il vostro smartphone android via cavo quindi con tutte le funzioni che si hanno android via cavo le copertine spotify eccetera altri come carlin kit 4.0 come otto cast u2x permettono comunque di collegare il vostro smartphone android al vostro stereo con android auto wireless però non lo fanno con un sistema a2a cioè android to android ma lo fanno sfruttando il modulo card play quindi comunque il vostro smartphone android si connetterà alla vostra auto radio comunque funzionerà android auto wireless però nel vostro stereo risulterà collegato un iphone e questa cosa in una macchina come la mia ad esempio qui vi farà perdere le copertine spotify qui vi farà perdere la possibilità di fare le telefonate attraverso il bluetooth dell'auto ma dovrete utilizzare il bluetooth di android auto mentre con questi con questi qua abbiamo detto a2a non perderete le chiamate bluetooth la vostra macchina e non perderete le copertine spotify di scorsa parte poi sono i box android che sfruttando il modulo carplay qui però non avrete oltre ad avere android auto wireless avrete anche su qualcuno il play store su qualcuno su qualcuno netflix su qualcuno youtube ma diciamo è un mondo a parte vi invito a guardare i video che ho fatto sui box android quindi prodotto valido dal prezzo valido carino simpatico richiama un po' lo stile android mi ha fatto piacere recensirlo saluto l'amico pasqui che ci ospita nel suo canale gli amici del canale youtube revotech e state connessi perché le novità non mancano mai ciao